Siamo disponibili ad accettare la sfida a una condizione. Non si fa un atto di resa mandato via e-mail. Vuoi accettare? Beh, per firma qui. Dì ai tuoi 60 senatori che accettano di firmare il nostro progetto di trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie. Zero indennità. Dì ai tuoi senatori parlamentari di firmare l'abolizione del modello istituzionale regionale come sta avvenendo fuori ora e andiamo a dare al consigliere regionale quello che prende un sindaco come ha fatto l'Emilia Romagna. Accetta l'idea di fare una legge elettorale subito in cui chi vince governa. Beppe, vuoi che il PD sia disponibile a fare il primo passo? Lo facciamo. Ma ti richiamiamo ai tuoi impegni, a quelli che hai preso con il tuo elettorato. Non vale 40 milioni questa operazione, vale un miliardo di risparmi della politica. Ci stai ad accettare di giocare in modo pulito e trasparente, senza accordi e senza fatti. Il governo non l'abbiamo con te, non lo vogliamo fare con te. Sei disponibile, hashtag Beppe, firma qui, a cambiare da domani mattina e a smettere di stare sul tetto del Parlamento e andare a votare in Parlamento e a cambiare le cose per le quali sei stato eletto. Sei disponibile? Se sì, il PD è davanti a te, non è dietro. Noi il PD lo mettiamo davanti e non abbiamo paura. Se su questo ci stai, si fa. Se su questo non ci stai, sei per l'ennesima volta un chiacchierone. Se non ci stai, l'espressione buffone vale per te. Te lo dice il tuo amico Renzi.